Un ultimo tentativo di Theresa May per trovare un compromesso con l'Unione Europea sulla Brexit e salvare il suo accordo di divorzio che il Parlamento britannico, chiamato al voto martedì, minaccia di respingere in massa come è successo a gennaio. Ad anticipare l'indiscrezione è stato il ministro degli affari esteri irlandese Simon Coveney, la premier britannica in viaggio verso Strasburgo per vedere Jean-Claude Juncker. La Commissione Europea aveva confermato un colloquio telefonico domenica fra i due, tuttavia aveva detto di non avere meeting in agenda. Siamo comunque disponibili ad incontrare i negoziatori britannici in ogni momento, aveva dichiarato il portavoce Margaritis Skinas per ratificare l'accordo prima del 29 marzo, data di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. In serata Downy Street ha confermato il viaggio. È stato tutto un dire e non dire in questa vigilia del voto. Sono arrivate anche le dichiarazioni di Angela Merkel, a margine di un incontro a Berlino, secondo cui Bruxelles avrebbe messo sul piatto un'importante offerta dell'ultimo minuto. Intanto i laboristi affilano le armi per la battaglia in Parlamento. Theresa May deve accettare il fatto che il suo approccio non funziona, afferma Yvette Cooper. Come primo ministro deve mostrare capacità di leadership e resettare il dibattito. Se non troverà una soluzione, allora il Parlamento dovrà farlo al posto suo. A dividere i deputati è soprattutto la questione backstop, clausola di salvaguardia, con cui il governo britannico e l'Unione Europea vogliono evitare il ritorno del confine fisico fra Irlanda del Nord e Irlanda, che scontenta i sostenitori della rottura completa. Si parla anche di un nuovo referendum, ha detto il premier irlandese Lio Varadkar. Ma sono passati quasi tre anni da quel voto. Il Regno Unito è in ritardo nel dirci cosa vuole. L'accordo negoziato è già un compromesso. Intanto nel paese regna il caos. May fa solo confusione, si muove come un cane davanti alla sua cena, dicono alcuni manifestanti, apparsi con fido e scatolette davanti al Parlamento.